Sì, lui è già nel Mirino, l'ex assessore Maria Vittoria Ceraso, dopo aver tanto criticato assieme al centro-destra i 5 Stelle la procedura complessa con cui il comune di Cremona ha segnato l'appalto alla società francese, non perdona e presenta un'interrogazione scritta sul ritardo nella manutenzione dei semafori. Guassi, che è un'azienda municipalizzata come l'AIM di un tempo, avrebbe riparato subito, mentre la concessione comunale alla multinazionale francese si è presentata subito con alcuni disservizi nella soluzione dei guassi e semafori. Il caso di via Persico al Maristella è emblematico, dopo due settimane dell'assignalazione rimane il giallo intermittente perenne, quindi per regolare il traffico non resta che gravare sulla polizia municipale. E dire che l'intenzione manifestata dal sindaco Galimberti e dalla giunta, oltre che disservizi per Cremona, dal 1 gennaio incorporata da AIM era opposta, garantire cioè interventi tempestivi di manutenzione stradale secondo la gravità su segnalazione dei cittadini per evitare, ad esempio, che le buche stradali, a volte pericolose per biciclette e veicoli, durassero mesi. Nei confronti di Citulum, che fa capo al colosso transalpino EDF, inoltre l'amministrazione ha sempre rivendicato il proprio ruolo di controllo, parlando di investimenti finalizzati a rendere Cremona decisamente più moderna, anzi una vera e propria Smart City. Ci pensa però Maria Vettoria Ceraso a contestare i proclami su risparmi apportati dalla convenzione Consitulum. Va tenuto conto, infatti, del lavoro in più svolto dai vigili, mentre il nuovo numero verde e l'indirizzo e i mail, che sembravano garantire manutenzioni veloci, non hanno dato soluzioni. La serie dei guasti si allunga e non si limita al quartiere Maristella. All'inizio di maggio è toccato l'incrocio fra le vie Postumia, Tonani, Buoso da Dovara e Pippia, con disagi per diversi giorni. Poi sono andati in tilt i semafori dell'incrocio tra via Massarotti e via Trebbia, accanto a una scuola. Inoltre l'ex comandante dei vigili, Germana Ballarino, da quanto si è saputo, ha protocollato una lettera in cui segnala il mancato tempestivo intervento di Citulum in via Dante, via Orti Romani e via del Fiore, per lo stesso tipo di disservizio. Ceraso dunque chiede al sindaco quanti giorni vengono concessi a Citulum per le riparazioni e se è prevista una penale.